Si intitola In Agriturismo con Grazia, al primo di una serie di eventi organizzati da coldiretti Nuoro-Gliastre in collaborazione con i comuni di Nuoro, Osidda e Sadali, incentrati sul grande patrimonio gastronomico e ambientale del territorio, visti attraverso la lente delle celebrazioni del premio Nobel alla letteratura Grazia De Ledda. Prima tappa, oggi Lollove, il piccolo borgo in cui De Ledda scesse di ambientare la madre, che ha ospitato una visita guidata, momenti di riflessione, laboratori culinari, degustazioni e ridini teatrali. Grazie alla legge 7 abbiamo costruito un ulteriore percorso e finalizzato la valorizzazione di quelle che sono le aree interne, definite anche impropriamente marginali, con l'intento di creare il giusto connubio tra cultura, arte, archeologia, ambiente e soprattutto cibo. Con vogliare intercettare quella grande fetta di turismo, quei milioni di turisti che vengono ogni anno in Sardegna per visitare il mare, far capire loro che abbiamo delle zone interne magnifiche dove possiamo offrire anche oltre alle nostre ospitalità una serie di elementi a tipo di valorizzare le zone più interne. Noi siamo la diramazione al femminile di Coldiretti, che da sempre viene vista come un'associazione di uomini che lavorano la terra, che allevano gli animali, ma noi donne che comunque siamo in campagna in maniera attiva e che col nostro lavoro abbiamo voluto anche diversificare quello che da sempre era il mondo agricolo, abbiamo visto in Grazia dell'Edda la prima donna che ha dato risalto a quello che era il valore di donna, di madre, di moglie, ma di imprenditrice perché lei è stata la prima imprenditrice di se stessa. Quartiere generale dell'evento, l'agritulismo, lo Lovers, che dal 2019 punta a rivitalizzare il borgo utilizzando le chiavi della sostenibilità e del rispetto dei luoghi. Non siamo gli unici, ma assolutamente cerchiamo di coinvolgere abitanti e proprietari di case che stanno appunto in loco per cercare di far accadere cose belle, come in questo caso questo piccolo evento.